Per raggiungere una vera parità, adesso sembra che il tempo siano 132 anni, quindi è una sfida molto lunga. Le iscrizioni delle ragazze alle facoltà scientifiche sono decisamente poche, nell'anno 2021 erano del 34%. Se guardiamo la componente di donne nei ruoli tecnologici, siamo intorno al 22%, quindi abbiamo una parte del Paese che non riesce a esprimere il valore che potrebbe portare. La partecipazione delle donne all'economia non è un problema di donne, è un problema di crescita. Sembra che ci sia una sorta di pregiudizio che in qualche modo fa sì che ci sia una scarsa propensione, sia nella scelta che poi anche nei percorsi di carriera in ambito STEM. C'è sicuramente un vuoto da colmare. Come Valore D abbiamo fatto una serie di analisi e questo tipo di problemi risale a due cause. Uno è sicuramente gli stereotipi e bias e l'altro è un tema ancora una volta culturale. Lo stereotipo nasce veramente all'inizio, nelle bambine. L'intervento da fare su questo tema è sicuramente un intervento culturale che parta dall'inizio, da quando si è in età infantile, ma deve anche coinvolgere le famiglie. Noi rischiamo che l'esclusione di queste ragazze dal percorso crei un gap importante in termini di crescita e di opportunità per tutto il paese. E come Valore D abbiamo raccolto e sviluppato diverse progettualità. Tra queste ne vorrei citare in particolare due. Una che è Inspiring Girls, che è un progetto internazionale che porta nelle scuole anche delle elementari, delle medie, dei role model e quindi delle donne che hanno rappresentato una carriera di successo nel loro percorso, proprio per far immaginare un percorso che oggi forse non è compreso. E l'altro progetto, che si chiama Wonter, vuole invece stimolare la riflessione rispetto al futuro e quindi l'autonomia ancora una volta delle ragazze, ma anche qui delle famiglie, anche degli insegnanti, a pensare ai lavori del futuro. In questa piattaforma ci sono 100 ipotesi dei lavori del futuro e crediamo che sia una spinta significativa per promuovere un diverso modo di pensare e un approccio nel tempo.